Il Paese che nella crescente forza di cui questo sistema informativo lo governava, lo determinava, lo maturava. Intentiamoci, questi non sono rilievi nuovi che in grado propone il dipartito politico alla collettiva e dopo alla collettiva. Se si rileggono l'intervento del Comitato Città del Partito Comunista, andando anche a ritroso di dieci anni, il Drao non giudica sostanzialmente un dipartito politico debole, perché in quel dipartito non si apre una valutazione per il disarmo e per l'esploramento degli occhi.